Ciao, io sono Tommaso e oggi vi faccio vedere come evitare un problema abbastanza fastidioso che è quello della scritta Your GPU Memory is Full Su DaVinci Resolve, soprattutto nella versione 16, ho notato questo problema non tanto io quanto molti utenti che mi hanno contattato allora ho cercato un po' online per trovare una soluzione e la cosa che ho scoperto è appunto un bug legato alla GPU che risulta essere piena nonostante l'utilizzo non sia così forzato solitamente succede nel momento in cui abbiamo una scheda grafica un po' più vecchiotta oppure se la stiamo effettivamente utilizzando un po' troppo in maniera massiccia se abbiamo fatto delle correzioni di colori abbastanza pesanti con molti nodi se abbiamo utilizzato Fusion eccetera se poi ritorniamo all'interno di Edit per continuare a lavorare nella nostra timeline spesso e volentieri ci compare questo pop-up abbastanza fastidioso che continua a farci lavorare ma ci blocca nel momento in cui dobbiamo andare a cliccare ok ok come facciamo per eliminare questo problema? la cosa che ho trovato online è questa qui ci spostiamo su DaVinci Resolve qui in alto andiamo nella sezione Preferences e andiamo all'interno del nostro Memory and GPU qui proprio qui in basso dove c'è scritto GPU Processing Mode iniziamo a fare qualche test spostandoci da OpenCL a CUDA queste sono le soluzioni che ho trovato visto che effettivamente io utilizzandolo in automatico lo sto utilizzando su una macchina che è un Mac Pro fine 2013 con 16 GB di RAM e due schede grafiche AMD Fire Pro di 500 da 3 GB all'una non ho mai riscontrato questo problema con questa macchina per ora neanche nella versione di DaVinci Resolve 16 nella Public Beta però se volete fare almeno questo tentativo per vedere se può esservi utile spero che vi possa essere effettivamente utile e che vi tolga questo problema di questo pop-up fastidioso che compare costantemente se questo video vi è piaciuto cliccate mi piace condividetelo con i vostri amici iscrivetevi al mio canale accendete la campanellina per vedere tutti i prossimi video che usciranno e se vi piace DaVinci Resolve pensate che possa essere un programma ideale per il vostro tipo di montaggio video guardatevi tutti gli altri video dedicati alla serie di DaVinci Resolve all'interno della playlist dedicata ai tutorial e poi sul sito www.tommasocodolo.com c'è una sezione dedicata ai propri corsi una parte gratuita e una parte a pagamento che potete tranquillamente andare a curiosare c'è anche un codice sconto che vi permette di avere uno sconto di ben 50 euro all'interno del pacchetto completo che è chiedilo a Tommy tutto attaccato a me non resta che salutarvi ci vediamo con il prossimo video e ricordatevi di seguirmi in tutti i miei canali ciao